Siamo al Codemotion, H-Farm edizione veneziana. Il Codemotion va in trasferta grazie alla collaborazione con H-Farm. Come nasce questa collaborazione Riccardo? Nasce in modo molto spontaneo nel senso che noi abbiamo uno spazio che si presta a queste cose qui, loro ci hanno chiesto questa cosa e per noi è soltanto che un piacere, nel senso che riuscire a dare la possibilità a tutte queste persone di aggregarsi in luoghi diversi penso che favorisca anche la contaminazione, la crescita, per cui per noi è stato ovviamente un piacere farlo. Riccardo tu sei il fondatore di H-Farm, qui nascono start-up di successo. Il Codemotion è una manifestazione dedicata ai programmatori. Quanto conta l'aspetto tecnico per avere successo? Conta tantissimo, nel senso che noi quando facciamo una start-up, quando decidiamo di investire su una start-up, guardiamo principalmente nella determinazione delle persone, per cui quanta voglia hanno di fare questa cosa, quanto ci credono. È importante anche il modello di business, ma è importante che il team sia in grado di fare le cose. Forse è la cosa in assoluto più importante, per cui la programmazione per me è fondamentale, anche perché poi il modello di business con il tempo viene aggiustato, noi diamo dei suggerimenti, procediamo con tutta una serie di variazioni a seconda di quello che il mercato ci dice, per cui la capacità e l'agilità nel sapersi programmare e creare le cose è fondamentale. Dal tuo punto di vista di osservazione, quali sono i linguaggi che secondo te un ragazzo dovrebbe studiare, perché appunto hanno una rigaduta maggiore? Ma allora, gli ultimissimi sono sempre quelli più importanti, nel senso che chiaramente tutte le nuove evoluzioni dei linguaggi consentono di essere sulla cresta dell'onda con quello che chiede effettivamente il mercato e l'evoluzione della tecnologia. In questo momento per noi è sicuramente molto importante, è ancora Ruby, che è un linguaggio dove facciamo un po' fatica a trovare le persone. Noi facciamo fatica genericamente a trovare persone che sappiano sviluppare, per cui se uno ha un'infarinatura di base e si va a specializzare su un qualcosa che è allo stato dell'arte in questo momento, secondo me trova immediatamente lavoro, trova immediatamente un'opportunità. Senti, questa difficoltà però secondo te dipende anche dal mondo universitario che non forma adeguatamente, cioè che sta ancora indietro rispetto alle esigenze del mercato? Ma io non lo so e non vorrei neanche generalizzare perché poi ci sono delle situazioni di eccellenza dove probabilmente ci sono queste cose. Credo che sia anche difficile oggi, onestamente per il mondo universitario, correre la velocità della rete. Però è un must per i giovani riuscire a rimanere legati a tutto quello che accade e riuscire a cogliere nel tempo giusto queste cose e sapersi preparare a quello che è il mercato. Io comunque vedo tantissime opportunità. Genericamente per tutti i giovani oggi, perché tutti i modelli stanno cambiando e ci sono delle opportunità straordinarie, in particolar modo per chi sa programmare, perché c'è una necessità estrema di questo tipo di preparazione e se potessi tornare indietro, anch'io vorrei sapere programmare, perché penso che sia una cosa che ti completa. Io ho delle nozioni veramente scarsissime, però subisco veramente il fascino di chi è in grado di crearsi da solo le cose, perché di fatto è autonomo. Ti ringrazio. Ti ringrazio.